Un accessorio un po' particolare che si distacca dai comuni unboxing che di solito facciamo quali tastiere, mouse da gioco, periferiche da gaming in generale e così via. Oggi parliamo dello stand per cuffie Mr. Bubble, un prodotto creato da Inwin, che come sappiamo è un'azienda taiwanese che negli ultimi anni si sta portando ai massimi livelli con case dal design molto particolare e come vedremo in questo video anche oggetti e accessori molto particolari. Partiamo subito dunque dalla confezione nella quale vediamo presenti molte informazioni su tutti i lati della stessa. Inoltre è presente una figura molto carina e sono riportate le specifiche del prodotto oltre che i colori. In questo caso noi andremo ad unboxare la versione di colore azzurro, come ci è mostrato anche da queste cuffie di colore azzurro. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Come possiamo vedere è uno stand a forma di bolla realizzata in vetro temperato, molto trasparente, ha uno stand in alluminio, quindi solidità e qualità ai massimi livelli. Come possiamo vedere è inciso anche il logo Inwin sulla base in alluminio, come abbiamo detto, dello stand. Il peso è davvero molto pesante, diciamolo come oggetto. Ha una base con una finitura gommata, quindi ci permetterà di appoggiare lo stand e difficilmente si muoverà se non lo muoviamo noi. Come vi abbiamo detto è uno stand per cuffie, quindi quando non utilizzeremo le cuffie le potremo riporre su questo stand. Vi facciamo vedere come funziona. Prendiamo in esame uno degli ultimi de-set che abbiamo recensito ultimamente ed eccoci qui. Una volta appoggiato le cuffie sullo stand, questo le sosterrà. La forma si adatta praticamente ad ogni ID-set o ad ogni paio di cuffie senza problemi. Faccio vedere anche una vista laterale. Quindi un oggetto davvero carino che sicuramente potrà esserci utile sulla nostra scrivania, sul nostro piano di lavoro. Per ulteriori immagini e per la recensione scritta, dunque vi rimandiamo alla recensione sul nostro sito www.ximardware.com Un saluto allo staff.